Come va? Sì, sì, bene, sì, 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 bene, 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 no, no, bene, 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 mi sento bene, mi sento, mi sento bene, non ho neanche spaccato la faccia a mia nonna stamattina, bene, e quindi miglioro a vista d'occhio, bene sto, sto da Dio, devo dire che sto bene, bene, anche stamattina mi sono alzato, ho guardato il mondo e ho detto, ah, dottore, mi sento sempre fuori posto, come un applauso fuori tempo, come uno suono in mezzo al bosco, dottore, ho voglia andare in un negozio, a rimanere il tuo piano, sono misato su tutto. Dottore, mi sento un posto dove fare, amore è l'uso della situazione, per morire con a rincolania, per l'altro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.